Lino Guanciale è veramente instancabile, e non potrebbe essere altrimenti vista la grande richiesta dell'artista abruzzese. Pochi mesi dopo la fine della messa in onda della prima stagione del Commissario Ricciardi, che tornerà con una seconda stagione, l'artista ha terminato un altro progetto che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi per la gioia dei suoi tantissimi fan. Tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, ve lo mostreremo più avanti nel corso dell'articolo, Lino Guanciale ha annunciato di aver terminato la riprese della sua nuova fiction Sopravvissuti, che lo avevano tenuto occupato negli ultimi mesi. Si tratta di un progetto molto curioso e con obiettivi importanti, di conseguenza le riprese non sono state esattamente un gioco da ragazzi, come confermato dallo stesso attore sui social. Sopravvissuti è stato un progetto ambizioso e complesso, bellissimo ed estremamente impegnativo, sotto tutti i punti di vista. Lino Guanciale dopo le riprese di Sopravvissuti, ho davvero imparato tanto. La voglia di mettersi in gioco, di sperimentare e di imparare sono delle prerogative dei più grandi. Lino Guanciale proprio per questo è diventato un artista a tutto tondo, grazie alla sua capacità di sdoppiarsi tra set e il suo amato teatro, anche se tutti conosciamo le difficoltà di quest'ultimo a causa della pandemia. Girare Sopravvissuti è stata sicuramente un'esperienza formativa per Lino Guanciale. Ho davvero imparato tanto, e ringrazio tutte e tutti. Grazie a Rodeo Drive per aver creduto in questa scommessa, grazie al cast tecnico al completo. Lino Guanciale oltre il Commissario Ricciardi. Quando vedremo Sopravvissuti, Lino Guanciale, che intanto è già al lavoro per la seconda stagione del Commissario Ricciardi, tornerà in onda sulle reti Rai con la nuova fiction Sopravvissuti. Non c'è ancora una data certa, ma verosimilmente la fiction approderà in tv tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022.